Lezione Marvero numero 1 Allora, l'ingredo principale è questo tipo di carne che è la manca della lonza del 2 ed è battuta a mano, sono dei tocchetti di carne poi allargati battuti a mano Mollica condita con farmigiano, pecorino, prezzemolo e uno spicchio d'aglio e olio Aglio? Aglio delicato E poi formaggio galvanino normale Allora, iniziamo così Cominciamo a estenderli i bottini In modo tale che la parte davanti sia la più stretta di ruta La parte inferiore è la più alta Per non avere problemi per riuscire a 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 riuscire Vedete che delicata, che tenera la carne Deve essere sottile Poi, dopo questo passaggio, mettiamo un petto di formaggio nella parte inferiore della carne In basso Qui Poi si può mettere qualsiasi tipo di formaggio che uno preferisce E noi mettiamo questo un po' che ha un gusto dolce Dopodiché, prendiamo la mollica La cosa importante è che ogni volta che si mette la mollica si deve fare un pallino ben consistente E metterlo sopra il formaggio Senza sporcare la parte di sopra della carne Se no poi non riusciamo a chiudere Perché la parte di sotto incolla con quella di sotto Se c'è la mollica non si attacca e si apre E poi prendere la mollica di carne E chiuderla nei laterali così E fare questo mollina e girarla Dopo che girarla, metterla nella mano e cominciarla a pressare Per stringerla e compattarla Ma è una pallina? No, una braciolettina Un cilindro Ah, ok Dopo che si fa Dopo che si vengono tutte Si mettono Allora, le chiudo un attimo il volo E Anche un cilindro Anche più cari che la video di c'è Però Sotto giusto lo penso ovviamente Sotto giusto lo penso ovviamente Sotto giusto lo penso lo sai Poi c'è